Vaffanculo, stavamo registrando, pensavo di stare registrando, vaffanculo, vabbè, rifacciamo tutto, ora si, bene amici, partiamo, proviamo una strada di merda, diffestata, però lei si comporta bene, riserva, non me ne frega, andiamo a girarti, bene, questo è che angolo di spazio, spettacolo, perché, non mi pare, la partita è molto importante, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.